Marsala, al comune l'immobile dell'imbarcadero storico Nello Stagnone, il sindaco Grillo, vi realizzeremo un infopoint per i visitatori. L'antico imbarcadero per Mozia potrà prestissimo contare sul locale per l'accoglienza turistica con personale bilingue e servizi per visitatori. Ringrazio il presidente della regione per avere promosso questa iniziativa e l'assessorato territoriale ambiente per avere dato un positivo e celere riscontro alla nostra richiesta. E' quanto afferma il sindaco Massimo Grillo che ieri mattina assieme all'assessore Giacomo Tumbarello e al responsabile del patrimonio Gaspare Signorelli si è recato proprio nella struttura per visionarla.